benvenuti nel 1900 guardate che che sfilza di robe boxcar a 80 km all'ora adesso iniziamo ad avere più potenza six wheeler addirittura una six wheeler un vagone ancora più grande 829.000 costa posso permettermelo? no no non posso permetterlo perché sono sono povero e per la modica cifra signori di 158.000 dollari cifra che tutti noi avremo sicuramente nel conto in banca io premo questo pulsantino e cambio i miei tram signori tram che ormai sono esausti tram che è il caso di farci guadagnare 39.000 dollari 28.000 a viaggio e adesso abbiamo ancora più possenza e potenza perché sono elettrici cosa vuol dire che sono elettrici vuol dire che le emissioni passano da 89 a 69 riduciamo il rumore generato da questi mezzi violenti e anche se le nostre macchinine ovviamente fanno un bel po' di casino guardate tra l'altro c'è la personcina che si siede davanti vicino al cocchiere c'è il cocchiere e invece il tram è partito ancora una volta per la sua tratta extra urbana perché abbiamo un collegamento extra urbano violentissimo ci piace? assolutamente sì benvenuti ancora su transport fever siamo all'inizio del 1900 l'urbana del cucola al lago è stata appena modernata vediamo come migliorare ulteriormente le nostre linee di prepotenza e adesso abbiamo un cichenin ristabilito l'ordine da queste parti voi direte Mike ma perché tutto questo ambarabacicico con tre civette sul comò? perché Mike signori vorrebbe senza penneggia e scrivere ovviamente perché questo è il requisito fondamentale per essere un potentissimo e se siete qua probabilmente siete come me ok? e quindi è quello di prendere ovviamente un deposito per il trenozzo metterlo qua in fondo ovviamente come si dice in cucula alla valle è famosissimo questo detto ragazzi in Veneto in cucula alla valle e quindi andare direttamente da qua e fare un collegament un collegament così che ci porta dritti fin là e quindi ma perché Mike? perché lo fai? perché ragazzi così possiamo finalmente usare un unico deposito per la main station e potrei in questo modo eliminare questo deposito e potrei eliminare questo deposito che sono soldi passivi che Mike spende ok? perché se andate a vedere sull'account andate a vedere sulla ferrovia andate a vedere main infrastructure noi paghiamo 53.000 anzi 214.000 216.000 al mese per l'infrastructure e voi dite ma quali sono queste infrastructure? l'infrastructure è abbastanza semplice basta andare sulla station statistics e andare a vedere che Mastropio di per sé zona cargo paghiamo 35.000 qual è? questa questa station qua ci viene a costa 35.000 per quale motivo? in realtà è un motivo di mer... nullo perché in realtà 1, 2 e 3 basta eliminare quei 3 pezzi e abbiamo ridotto praticamente quello che è il cost di Mastropio ecco qua già 29.000 adesso Mastropio ok? questo perché? perché ogni zona di carico e scarico ci costa cash ci costa cash e i cash e i cash si sa che sono sacri e infatti Mike ma che cacchio è sta roba? Mike Mike ma che cacchio è sta roba? ma che cacchio? ma che cacchio? ma che cacchio 1.200.000 c'hai Mike? e non te ne sei neanche accorto 1.400.000 Mike e come l'hai fatto il milione Mike? non lo so ragazzi ma ce l'ho quindi ne lo tengo stretto perché dico ma che cacchio? perché sto pagando delle tasse del cazzo per avere un binario a questa parte che non mi serve un ciuffolo di niente e quindi che succede? Mike vorrebbe venire e demolirlo tipo vattene a ciupanana vattene a ciupanana vattene a ciupanana bene quindi eliminiamo il binarietto e ci devo mettere un cargo building di nuovo adesso la station ha di nuovo senso e ambarabaciccico co tre civette sul como torniamo a noi volevamo fare questo collegment questo collegment che va da qua a là questo collegment che va da qua e si compenetra con quella linea e ovviamente questo collegment che dovrebbe andare così e compenetrarsi a sua volta lì ma stroppio cargo terminal alle nomi potenti linea 1 questo è benza mastroppio proprio in maniera elegante proprio capito e ve lo sapete meglio scrivere questo trenino lo assegniamo benza mastroppio ecco che arriva a scaricare anzi a caricare si porta dietro 12 barilozzi e basta 12 barilozzi e basta sono un po' pochettini onestamente ma dobbiamo dirgli configure vehicle e la prima run la facciamo fare così successivamente ci aggiungeremo quel bonus in più che è ovviamente il full load load nel frattempo quanti siamo di debiti siamo a 9 milioncini 9 milioncini ragazzi adesso il prossimo objective grande che abbiamo è toglierci completamente i debiti perché significa che se io mi tolgo i debiti avrò un 140 mila 135 mila cash in più che mi restano nelle mie taschette belle belle con la pazienza e con la potenza dentro le vene ovviamente cosa abbiamo fatto abbiamo aspettato e abbiamo il nuovo trenozzo pronto con 45 serbatoi prepotenti e che si fa e si dice va a fare il petrolio anche tu boy va a fare il petrolio teoricamente adesso non dovrebbe andare a mastroppio trasformazione dovrebbe andare a mastroppio d'altra ah ok no perché non c'ha non c'ha si che ce l'ha aspetta 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 questo aveva un senso unico ma non è neanche il tuo segnale questo one way no ok teoricamente tu puoi andare di là però piccio banana vediamo da che parte decide andare ovviamente va dalla parte sbagliata bene adesso lo giriamo subito gli facciamo capire che non va bene e secondo me è sempre meglio tenere un trenino al deposito fino a quando arriva il momento giusto signori ok invece di buttarlo fuori e farlo fargli spendere soldi quando magari non è profitevole perché così abbiamo un trenozzo che guardate già quasi a destination questo invece è quasi a caricare e inizia subito la potenza la potenza iniziamo subito a ingranarla questo arriva in fondo e carica scarica come stiamo messi qua baby dicci un ciccenì come siamo messi il trenozzo intanto l'ultimo che abbiamo abbiamo fatto all'inizio della puntata è a 30.000 dollari guadagno ok 30.000 e civile molto bene molto bene anche perché dobbiamo iniziare a mettere dei soldini da parte perché dobbiamo iniziare a cambiare un paio di trenini abbiamo ovviamente dei mezzi che ormai hanno la loro età infatti il trenino 11 24 anni ormai questo povero cucciolo è mediocre mediocre però ci sono le condition very bad di un bel po' di trenini a dire la verità quindi questi dovrebbero preoccuparci 1.866.677 77 dollari ve li regalerei se potessi ma non posso ma ma posso sostituire il trenino 4 con un trenino nuovo ed ecco mamma mia trenino nuovo ma soprattutto non è tanto per il trenino che il trenino non è tanto nuovo lo conosciamo già è la sbellissima previs che fa i 50 all'ora ma i wagoncini invece sono completamente nuovi e ovviamente non hanno neanche le vetrate così si possono affumicare al meglio scusate signori signori tutto bene dentro tutto 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 decente eh si praticamente sono delle piccole scomparti capito guardate dove sei tu alla terza classe C B F A ok bene adesso ho speso un milione solo per questo mezzo potevo spendere un milione solo per una locomotiva invece dai tutto sommato abbiamo fatto un buon affare dopo attenti studi abbiamo deciso che sarà il trenino Maris ok eccola molto bene faccio guadagnare soldi Maris se non ci fai guadagnare soldi ti vengo a cercare a casa e sta attento quindi eccolo madonina trenino Maris adesso ci fa guadagnare un po' di skate e nel frattempo Mike Mike va di violenza perché un milione e sei prima di farlo anzi un milione e otto prima di farlo ce ne vorrà un altro Ciccinin ma con la pazienza con la potenza si fa tutto adesso vendiamo tutto bam e lo mandiamo dritto al deposito un Ciccinin fast un milione e uno così va bene io li prendo li accetto volentieri adesso non sono più non ci stanno più ok grazie va bene va bene qualcuno vorrebbe donarmi per favore un milione di euro signori prometto che faccio il bravo prometto che continuo a fare video e trovate il paypal in descrizione se vengono queste idee capito no perché si sa mai io chiedo è lecito chiedere mettiamo la capacità 35 è mediocre adesso no lasciamola a 30 allora è good ma no dai mettiamogli un altro 5 vai così baby trasporto grano no perché non vedo la linea ecco perché benza perfetto via il treno maris ha appena ingrandito la sua potenza bam hanno buttato giù le piattaforme fondamenta per un'altra industria madonna se sta crescendo mastropio è proprio guardala là guardala là ok aumento di personal per mastropio perché abbiamo sia la benza che abbiamo sia il cibo e vorranno sempre più roba ragazzi sempre sempre più roba vorranno incredibile bene 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 nel frattempo cosa abbiamo qua 36 trasporto cibo bene esistono ancora esistono ancora sti mezzi ancora non abbiamo cambiato tutte le carrozze mannaggia Mike costituisci tac eccolo qua e autocars ma andiamo un po' avanti il tempo andiamo a prendere un po' di progressi 1903 abbiamo superato ovviamente la soglia psicologica ma man mano che adesso facciamo andare avanti il tempo le industrie vediamo che si abbiamo dei mezzi usurati ma cerchiamo di tirarli un po' per le lunghe e usare la loro potenza per togliere i debiti dalle banche liberarci da questa da questo gioco ovviamente almeno virtuale perché nella realtà sappiamo che le cose sono un po' diverse bam eccolo là stanno scadendo a vista d'occhio signori i debiti meno 5 milioni 500 cioè io veramente 5 milioni 500 ed eravamo a 8 milioni poco fa e voglio dire che vuol dire che abbiamo fatto 3 milioncini 3 milioncini che potrebbero restare nelle nostre tasche se noi non fossimo già meno 370 mila che poi nella realtà come si farebbe meno 370 mila 300 cioè che c'è i soldi negativo sì effettivamente sì c'è questi strozzini dietro casa probabilmente altri 500 andati siamo sotto i 5 milioni sotto i 5 milioni avanti Mike siamo a settembre 1903 vuoi vedere che per il 1905 siamo senza debiti siamo puliti come il culetto di un bambino appena nato beh non è mica tanto pulito non so se l'avete mai visto ma è tutt'altro che pulito il culo di un bambino appena nato comunque a parte questo andiamo avanti di ridare indietro altri 500 mila 4 milioni 4 milioni un countdown ci sta benissimo qua lo avevo detto lo avevo detto il debito estinto entro il 20 sì il 43 1904 eccolo qua ultimi 500 mila zero debito ok tutto quello che c'entra in tasca adesso sarà solo e soltanto nostro nostro quanti sono che voglio andare a cucurare al banamba di bam ok sull'extraurbana attenzione sono in tanti che voglio andarci sembrerebbe che c'è un po' di richiesta se non esplode tutto ma andiamo avanti un po' il tempo veloce perché noi ci piace andare veloce è ancora più veloce se riusciamo a seguire oh meno santo dio meno 150 150 meno 150 200 ok è impazzito sono soldi positivi buoni siamo sicuri c'è il post bus c'è il post bus abbiamo sbloccato il post bus molto bene Mike molto bene ma voglio voglio sostituire questo tram abbiamo il c'è il c'è il c'è fai 40 all'ora cioè capite che inizia a essere trasporta anche 21 personcine 10 persone in più e fa anche una velocità maggiore cioè sarebbe già un salto avanti di qualità dove sei tram madonna si è usurato sto povero tram configura veicolo proviamo a selezionare tutti e tre e selezioniamo i c'è 222 st che probabilmente sono anche troppi ragazzi ma adesso abbiamo il tram super mega moderno guardate che bellezza ok e ci sono anche le macchinine nuove ovviamente siamo nel 1905 e la potenza ormai la potenza ormai è solo dalla nostra cioè senza debiti e con i tram veloci mezzi sempre più veloci adesso iniziamo finalmente a vedere una nuova era e con questo signori io vi ringrazio per l'attenzione vi saluto e vi do appuntamento al prossimo potentissimo episodio Mike senza nome passo e chiudo ciao